Bentornati su MyFootballJersey. Guardiamo un'altra anticipazione per Euro 2024. Questa è la prima maglia del Belgio in edizione FAN. Questa è la prima maglia del Belgio. A me la maglia piace tanto. Questo colore amaranto, veramente molto bello, con questa sfumatura in oro e nero. Una maglia che per il momento è tra le mie preferite. Ditemi voi nei commenti cosa ne pensate, fatemi sapere se oltre a questa volete vedere altre maglie. Il costo l'avete visto, i tempi di spedizione sono ottimi, come al solito, 3-4 settimane. Che aggiungere? Vedete voi cos'altro fare. Ora, prima di lasciarvi, vi ricordo di mettere un grande like. Per oggi è tutto, alla prossima! Grazie a tutti!